Ma questa a livello europeo non è una partita in cui c'è chi vince e chi perde. Secondo me ieri abbiamo stabilito prima di tutto un principio che senza l'Italia non si va da nessuna parte e chi arriva in Italia arriva in Europa e quindi i migranti che sbarcano in Italia sono una questione europea. Poi io non mi entusiasmo particolarmente, quella di ieri è un'ottima base di partenza però adesso io mi aspetto dai paesi che tengano fede alla parola data in quell'atto che è stato firmato ieri da tutti i paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l'Europa non esiste più perché ci si vede fino alle 5 di notte, si scrive un documento tutti insieme, si dice che si vuole aiutare l'Italia sui migranti, si dice che chi sbarca in Italia sbarca in Europa, che c'è l'intenzione di rivedere Dublino se non lo vogliono fare gli altri paesi vuol dire che quelle riunioni non servono a nulla e questo è un problema.